In casa Svelti la signora Costanza sta cercando di spiegare a suo figlio Daniele lo svolgimento dell'esercizio di matematica. Ho capito, capito, dice lui e schizza in camera. Daniele è detto scheggia dai suoi compagni della squadra di baseball perché è un velocista ed è imbattibile nello scappare da una base all'altra per arrivare a casa base a fare il punto il prima possibile. Costanza scuote la testa. Come fa ad avere capito? Non ha spiegato neanche l'inizio dello svolgimento. Daniele sta scrivendo sul quaderno la soluzione. La mamma è troppo lenta quando gli spiega le cose. Lui sa già la fine di tutti i suoi discorsi ma lei non lo capisce e le vuole finire lo stesso. E poi quando vede che lui ha davvero capito finisce per arrabbiarsi anche di più e dice se non ascolti gli altri nessuno ascolterà te. Adesso per esempio lo chiama in cucina e col coltello in mano mentre sta affettando l'insalata gli dice che è da ieri che non trova Ugo e che forse Daniele sa già che gli vuol chiedere di andare a cercarlo e schizza fuori in giardino senza dirle niente lasciandola dietro di sé a urlargli ma dove vai? Ugo, la tartaruga di casa, ha deciso di partire. È troppo tempo che sta in questo giardino. Di là dalla siepe arriva un richiamo ineffabile e la voglia di esplorare, di andare avanti, di correre incontro all'avventura gli mette addosso un'inquietudine quasi spiacevole. La voglia di correre, cresciuta di giorno in giorno nelle sue gambe, gli fa spingere la testa sempre più avanti, verso il futuro che l'aspetta, mentre il peso della corazza e l'inadeguatezza dei suoi muscoli lo trattengono indietro. E allora su, avanti, con fatica, con rabbia per il suo corpo che non è all'altezza della sua voglia di correre, ma comunque avanti, avanti, senza riposare mai. In una brevissima sosta per riprendere fiato, Ugo nota accanto a sé una chiazza rosa viola, un gruppetto di fiori ben strani. Ieri qui non c'era niente e oggi tutto d'un tratto, foglie, fiori e semi già maturi. Per bacco, che velocità! Che bell'esempio da emulare! Chissà se mangiando un po' di questi fiori, la loro energia non riesca a ricaricarmi, a fornirmi della stessa prorompente vitalità. E pensando questo, la bocca di Ugo arriva al più rosa e tenero dei fiori, ne stacca qualche petalo e lo mastica e inghiotte, come in un rito magico. Per tutto c'è un momento e un tempo per ogni azione, sotto il sole. C'è un tempo per germogliare e un tempo per fiorire. C'è un tempo per correre e un tempo per fermarsi. Ugo sente, pesanti come pietre, queste parole risuonarli nella testa. E dalla testa cadono giù, allargandosi sotto la corazza, e scendono dentro le gambe, rendendole, se possibile, ancora più pesanti, anzi, quasi inchiodandole al terreno. Ma come? Tempo per fermarsi, dicono le parole. E lui, che si era nutrito di quel fiore così energico, così dinamico, proprio per poter andare più veloce. Ecco che, però, quella sensazione di peso nelle gambe si scioglie e i muscoli che gli dolevano si allentano, diventando quasi liquidi e facendolo sentire in pace. D'incanto, tutte le cose intorno a lui diventano più nitide, più colorate. Compaiono dettagli e particolari a cui prima non aveva fatto caso. Quella lumachina, che si sta spenzolando da un filo d'erba. Quella farfalla bianca, che lassù sta ballando il waltzer, seguendo una sua melodia. Il profumo di terra e la fila di formica che gli sta attraversando la strada. Come mai, prima d'ora, non aveva notato queste meraviglie? Certo è che, visto così, il giardino è un mondo pieno di sorprese e le terre sconfinate al di là della siepe possono pure aspettare un altro po'. E Ugo comincia a passeggiare per la prima volta in vita sua. Scheggia, intanto, è sulle tracce di Ugo. Seguendo il metodo deduttivo descritto nell'ultimo libro che ha divorato, Sherlock Holmes e il mastino dei Baskerville, ha già trovato le prime tracce, una mezza foglia di lattuga lasciata cadere a tre metri dalla ciotola. Certo, per lasciar cadere così il suo cibo preferito, Ugo doveva andare di fretta. Eh sì, caro Watson. E quindi sarà bene seguire la traiettoria indicata dalla linea che unisce ciotola e lattuga. Ecco un rametto calpestato. Qui, accanto a un gruppetto di fiori, color rosa brillante, Sherlock scheggia, vede dei fili d'erba piegati e schiacciati. Guarda meglio e vede che qualcuno dei fiori è stato sbocconcellato. E a vedere le dimensioni dei morsetti, deve essere stato un animale più grande di una lumaca e più piccolo di un mastino. Forse proprio una tartaruga maschio di circa un chilo e duecento grammi. Elementare, Watson. Adesso bisogna approfondire le indagini. Occorre entrare nei panni del soggetto. E per far questo, sì, un investigatore deve essere disposto a tutto e fare proprio quello che è stato fatto dall'indagato. Daniele esita un po', poi stacca qualche petalo di quei bei fiori rosa-viola e li mastica, sdraiato per terra, proprio come doveva aver fatto Ugo. E qualcosa effettivamente accade. Perché lì, da quella prospettiva così bassa, non solo scopre profumi, colori e particolari di una insospettabile bellezza, ma vede anche, proprio davanti a sé, in linea col suo naso, la codina di Ugo che si muove lentamente al ritmo dei suoi passi. Un ritmo diverso dal suo solito arrancare, quasi un ritmo d'ammolleggiato, dal rapper di periferia. Ma è davvero lui? Ugo! Daniele lo chiama ridendo e Ugo, sempre con quello stesso ritmo, né veloce né lento, si volta e gli strizza l'occhio. Mamma, ho trovato Ugo! Credo che sia lui! Mi sembra lui, ma è... Super! Daniele ride e non riesce a spiegare alla mamma niente di quello che è capitato, anche perché, di fatto, non è accaduto niente. La signora Costanza, che sta ancora affettando l'insalata, lo guarda in tralice e comincia a dire, come se non avesse mai interrotto il discorso che faceva prima. Beh, meno male! Dopo tutto quello che ho fatto per trovarti una tartaruga di terra e quello che faccio per procurargli l'insalata fresca! Costanza continua, abbassando il tono di voce e borbottando tra sé, perché sa già che Daniele non la starà più ascoltando, perché sarà schizzato in camera sua, e invece, con la coda dell'occhio, lo vede lì, impalato, che la ascolta e che, sorridendo, le dice, è vero mamma, grazie, so che hai fatto davvero un bel po' di lavoro. La signora Costanza si ferma senza più parole e non crede a quello che le sta succedendo. Daniele, dal canto suo, che come al solito avrebbe potuto dire ogni singola parola di quello che stava per uscire dalla bocca della mamma fin dall'inizio del suo discorso, ha finalmente capito che quello che lei voleva era solo essere ascoltata. Perché a lei non interessava veramente che Daniele capisse quelle parole, più di tutto lei voleva dirle, voleva versarle nelle orecchie di qualcuno. E per questa volta, una volta per tutte, Daniele ha offerto le sue orecchie. E ora, che le parole della mamma sono già finite, così presto, Daniele può andare in camera sua, senza correre né strisciare i piedi, ma camminando, usando un ritmo super giusto che gli suona in testa. U-GO! U-GO!